Lo aveva dichiarato in occasione della sua presentazione ufficiale e non torna indietro Giancarlo Favarin quando fissa gli obiettivi della Fidelisandria per il prossimo campionato di Serie D. Non si punta alla vittoria ma in questa piazza non si può certo disputare un torneo anonimo. Andrea non è che può vivacchiare in un campionato anonimo. È normale che lo sappiamo tutti, lo so anch'io, che dobbiamo essere una delle protagoniste di questo campionato. Quindi può essere quinto, sesto posto, quarto posto, non si sta a quantificare dove si può arrivare. Però ha già inquadrato un obiettivo possibile. Beh, è chiaro che non dobbiamo lavorare la metà classifica in su perché insomma si sta a perdere tempo. Idee chiare che dovranno essere conciliate con le forze a disposizione. La squadra azzurra da lunedì è in ritiro a Corato prima di trasferirsi a Norcia per la seconda parte del ritiro precampionato. Sono 30 i giocatori convocati da Favarin anche se la sensazione è che qualcuno potrebbe lasciare il gruppo in queste settimane. Così come non può dirsi concluso il mercato perché al di là degli under, sui quali punta molto il tecnico toscano, si sonderanno le possibilità per portare in maglia azzurra giocatori che permettano alla Fidelisandria di entrare nel gruppo delle migliori sei della Serie D. Obiettivo che Favarin fissa come il minimo sindacale da queste parti.